Unione civili, Renzi, Gella, Bitonci, non può disapplicare la legge, il sindaco, replica, venga il premier a celebrare i matrimoni, blitz dei centri sociali davanti al comune. Tutte le poste di Rubano, nella notte i ladri sono entrati negli uffici e sono riusciti a rubare 40.000 euro, indagini dei carabinieri. L'appello di Paolo Noventa a Deborah Sorgato, invece di scrivere a Barbara D'Urso, parla con i magistrati e dismi, dov'è mia sorella. La denuncia di un pensionato disabile padovano con il nuovo ISEE, la badante diventa reddito e così perde il diritto al sostegno dei servizi sociali. Amministrative di giugno, Luca Claudio spiega perché ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Abano Terne, per lui sei liste che lo sostengono. Il pianoforte per far suonare i viaggiatori è diventato l'incubo dei commercianti della stazione di Padova, troppo fiasso e pochi musicisti. Tutto pronto per la donata degli alpini, domenica Rete Veneta seguirà in diretta la sfilata e questa sera speciale focus con le penne nere e i veneti schiacciati dalla crisi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura parliamo delle unioni civili e soprattutto del botta e risposta tra il sindaco di Padova Massimo Bitonci e il premier Matteo Renzi. Io comunque chiederò a Renzi di venire a celebrare il primo matrimonio gay di Padova e lo faccia proprio a Padova, delegherò lui volentieri. Il sindaco di Padova Massimo Bitonci continua il botta e risposta a distanza con il premier Renzi sul tema delle unioni civili diventate legge dopo il voto in Parlamento. Bitonci, sindaco obiettore, sceglie di non celebrare i matrimoni fra persone dello stesso sesso, parole che non sono piaciute a Renzi. Nessuno ha il diritto di disapplicare una legge, ha ribattuto il premier che attraverso i social ha attaccato il primo cittadino padovano. Renzi partecipava al Family Day e partecipando al Family Day ha più volte ripetuto che non avrebbe dato via libera a una legge che equipara il matrimonio fra uomo e donna al matrimonio tra soggetti dello stesso sesso. Mentre Bitonci si scagliava contro le unioni civili, ieri in aula durante le intenzioni di voto le lacrime di commozione di un altro padovano, quelle dell'onorevole Alessandro Zan, ex presidente dell'Arci Gay Cittadino, che nel 2004 portò a Padova il Gay Pride. Questa legge è cultura, ha detto Zan, ricordando la sua esperienza. Immagino cosa possa aver provato quel ragazzo, capisco bene quelle sue paure, anch'io ero terrorizzato che mia madre e mio padre non mi accettassero, pensavo alle cose più brutte. Io sono stato fortunato e per questo li ringrazio, loro sono stati dalla mia parte. Scusate. Le parole di Bitonci hanno suscitato feloci poremiche, a quando le ordinanze per bruciare gli eretici ironizza la senatrice trevigiana Laura Puppato, mentre il segretario provinciale del PD Bettin si offre per celebrare i matrimoni al posto del sindaco. Purtroppo contro la forza della legge dello Stato e di questo provvedimento votato dal nostro Parlamento, la sua propaganda è destinata a infrangersi come acqua sugli scogli, insomma. Quindi io lo invito ad arrendersi e se non le vuole celebrare, pazienza, io ho già depositato la mia disponibilità a farlo al protocollo. E ci sono anche altri due consiglieri comunali padovani che si sono detti disponibili a celebrare le unioni civili, sono Beatrice Dalla Barba e Roberto Marinello di Padova 2020. Questa mattina inoltre i blitz dei centri sociali davanti al comune hanno inscenato una breve protesta, ma sentiamo cosa ne pensano i padovani, le unioni civili. Uno striscione per protestare sotto il comune contro il sindaco blitz questa mattina di un gruppo di ragazzi del collettivo universitario Bioslab. Le unioni civili e le polemiche per le parole di Bitonci hanno animato l'opinione pubblica padovana. Io sono favorevole, favorevolissimo, è un passo giusto per il nostro paese dal mio punto di vista e non sono d'accordo col sindaco che dice che non applicherà questa norma, che non può nemmeno farlo perché è un reato. Almeno dagli studi fatti Bitonci non è che possa rifiutarsi di compiere un atto d'ufficio. Le avrei viste sotto un aspetto diverso, senza fare una parodia del matrimonio. Guarda, facciano un po' come credono, io non sono contrario a chi si sposano, perché non vadano a prendersi i bambini, ecco questo proprio non mi va giù. Non lo chiamino matrimonio, magari con un nome diverso. Che sono felice di questa cosa, è una cosa positiva, speriamo vada tutto bene. Io penso che il diritto all'amore e a lasciare al proprio accompagna i propri beni o il compagno dei propri beni sia un diritto di tutti. Per me va benissimo, non sono sfavorevole a questa cosa. Io penso che se c'è una legge va rispettata e poi i coinvolgimenti delle persone non devono andare a mettere il naso nelle leggi. A un certo punto bisogna accettarle le leggi se sono in fondo una scelta del popolo. E siamo alla cronaca, colpo grosso alle poste di Rubano. La notte scorsa i ladri sono riusciti ad entrare dal retro e con un flessibile tagliare la cassa forte per portarsi via un bottino di 40 mila euro. Il tutto sembra senza far suonare l'allarme. L'assalto è stato commesso con ogni probabilità verso mattina perché oggi quando gli impiegati sono arrivati al lavoro hanno trovato gli uffici pieni di fumo generato dalle frese. Hanno chiamato i vigili del fuoco credendosi trattasse di un incendio. Solo più tardi con l'arrivo dei carabinieri si sono accorti che la cassa forte era stata tagliata e che erano stati presi i soldi che si trovavano all'interno. Indagano i carabinieri di Sarmeola. Deborah Sorgato, indagata per concorso in omicidio premeditato per l'assassinio di Isabella 90, scrive alle tv nazionali dicendo che tutto quello che è stato detto su di lei sono falsità. Noi oggi abbiamo incontrato il fratello di Isabella 90, Paolo. Sentite cosa risponde a Deborah. Ho vissuto una vita di inferno, vedova due volte e ho cresciuto un figlio da sola e ora tutti mi definiscono un mostro. Deborah Sorgato non parla con il PM ma manda una lettera a una tv nazionale privata nella quale non spiega nulla del suo coinvolgimento nell'omicidio ma racconta la sua vita costellata di dolore e difficoltà. Parole che suonano come pietre per la famiglia 90 che ancora da Deborah non ha avuto alcuna verità mentre l'ex amica Manuela Cacco l'accusa dell'omicidio. Questo il duro commento del fratello Paolo che oggi è tornato ancora in questura per collaborare le indagini. Ho sbagliato indirizzo, doveva mandarla in procura quella lettera più che ai media nazionali ma mi sembra che involontariamente voglia descrivere che è diventata così cattiva per i suoi trascorsi. Non ha detto di essere innocente, non ha detto niente, anzi mi sembra che voglia dire che la sua cattiveria è dovuta ai suoi precedenti vissuti. Insomma se Deborah ha qualcosa da dire lo dica il magistrato, sostiene la famiglia, intanto la polizia giudiziaria ha sentito come persone informate sui fatti alcune ex fidanzate di Freddy per smantellare definitivamente l'attesi raccontata dal ballerino al momento degli arresti ovvero che Isabella sia morta in seguito a una serata di sesso estremo. Ebbene le donne che hanno frequentato Storgato hanno detto che i rapporti sessuali avuti con lui erano normali, nessuna pratica inusuale, nessuna pericolosa acrobazia. E ora per l'iniziativa io chiamo Rete Veneta, sentite la denuncia, la storia di questo pensionato padovano disabile che a causa del nuovo Ises è visto negare il contributo erogato dai servizi sociali. La mia badanti adesso non l'ho ancora pagata, sono 438 euro, va bene, mentre finora i servizi sociali mi hanno sempre dato praticamente il denaro per poterle pagare, insomma finora non ci sono stati problemi, tutto di un colpo, basta, sono diventato ricco. Il signor Giampaolo è pensionato e invalido al 90%, fino al mese di marzo riceveva dal comune un contributo per pagare una badante part time. Da aprile il contributo si è bloccato, non perché come scherza lui è diventato ricco, ma perché sono cambiate le norme della presentazione dell'Isere. Ho ricevuto una lettera dei servizi sociali di Via del Carmine, la quale mi dice che praticamente le mie dichiarazioni Isese non sono conformi. La badante che lo accudisce chiede al signor Giampaolo di essere pagata, lui purtroppo non ce la fa, dice, e la situazione lo logora tanto da non dormirci la notte. Il suo non è un caso isolato, la revisione dell'Isere ha creato parecchi casi come il suo, in attesa che anche l'Inps fornisca un nuovo regolamento, lui chiede che il comune continui a versargli il contributo. Che l'Inps deve rifare tutti i moduli di richiesta dell'Isere, perché quelli che ha fatto finora ultimamente sono sbagliati, perché non si può far passare un reddito quando invece è una spesa. Ora vi ricordo il quesito del Tg Linea Aperta di questa settimana, dedicato a al business dei profughi tra truffe e false, continuate a dire la vostra, inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione o scrivendo una mail a padovacchiocciolareteveneta.it Sono gli stessi contatti anche per segnalarci le vostre storie per i nostri, e io chiamo Rete Veneta. Ed ora continuiamo a farvi conoscere i candidati del comune di Abano Terme in vista delle amministrative di giugno. Luca Claudio, sindaco uscente, spiega perché ha deciso di ricandidarsi. Che vince non si cambia, ma addirittura si migliora. Noi siamo cresciuti moltissimo con tanti giovani, tanti professionisti, molti delusi dai partiti ormai, che credo che la crisi del sistema partitico sia abbastanza evidente non solo ad Abano Terme ma in tutta Italia, anche se in Abano è maggiormente accentuata la crisi ovviamente. Il sindaco uscente Luca Claudio è il candidato con maggior numero di liste a sostegno, ben sei. Oltre alle quattro a lui collegate, in questa tornata elettorale c'è anche l'appoggio delle liste Abano Città Sicure con la gente per la gente. Luca Claudio aveva annunciato la sua discesa in campo già lo scorso ottobre, un modo per replicare le polemiche sull'indagine della finanza dell'aprile 2015 che lo vede indagato per un presunto giro di tangenti. Si continua a lavorare, il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettersi al servizio del cittadino e della gente. Abbiamo cominciato a lavorare un secondo dopo della nostra elezione e lavoreremo fino all'ultimo secondo utile. Stiamo continuando anche in questi giorni, quindi non perdiamo tempo a criticare o ad attaccare gli altri come stanno facendo, ma il tempo nostro principale, come vedete, siamo ancora qui in comune in pieno lavoro. Continueremo a lavorare per Abano, ha detto il sindaco uscente, ricordando l'impegno per la valorizzazione del termalismo portato avanti nel mandato che si sta per concludere. Invece noi siamo riusciti ad arrivare ad avere la presidenza dell'Ancot, con l'Ancot stiamo lavorando tantissimo. Abbiamo portato Abano ad essere la prima località termale a tutti gli effetti. lasciamo in eredità un più 7% di quest'anno, l'anno in cui è cresciuta meno è stato un più 1,8%, mentre tutte le località turistiche e termali d'Italia chiudono dal meno 12 al meno 26%. Nelle ultime settimane si è accesa la polemica sul pianoforte che si trova in stazione a Padova, un'iniziativa nata un anno fa con l'obiettivo di regalare qualche minuto di relax ai passeggeri, ma ora sembra che i negozianti non lo vogliano più. Alla stazione di Padova, come del resto in tante altre in Italia e nel mondo, si può arrivare qui, sedersi e suonare il piano. È una pausa tra le tante corse di ogni giorno, serve per dare un po' di pace a tutti, a chi suona, a chi ascolta. Ma i negozianti della stazione dicono che fa troppo rumore, che rimbomba con la musica in filo di fusione, insomma, loro ne farebbero volentieri a meno, ma tutti quelli che si lasciano rappire dalla musica non vogliono rinunciarci. Ti piace questa musica? Sì. Un sacco? Sì. Ma si spesso per la stazione di Padova? Sì, tutti i giorni. E c'è sempre qualcuno che suona? Sì, spesso. Hai sentito che i commercianti qui non vogliono più il pianoforte perché disturba? No, non lo sapevo questo. No, beh, no, assolutamente no, sarei straccontare, assolutamente, cioè, la musica è una cosa bellissima, dovrebbero ascoltarla tutti i giorni. Insomma, non direi che disturbi, anzi, da quel tocco in più, in un certo senso, quindi sarebbe una brutta cosa. Tu cosa ne pensi? Neanch'io ero conoscenza dell'iniziativa qua dei commercianti. Ti piace adesso sentire la musica qui? È gradevole, è gradevole. Sì. Sai suonare? No, no. E ti piacerebbe imparare però? Ci ho provato più volte, però non c'ho la pazienza purtroppo. E poi si suona per tanti motivi, questo ragazzo nigeriano lo fa perché è l'unico posto in cui esercitarsi. Vengo dalla Nigeria, ho imparato in Nigeria a suonare, vengo qui quando posso perché non ho una band, non ho nemmeno la possibilità di suonare da qualche altra parte, vorrei poter andare in una scuola e approfondire. Insomma, anche la stazione è un posto nel quale ci si può abbandonare qualche istante, fermarsi tra una chiacchiera e a suon di musica, scambiarsi un bacio e innamorarsi. Tutto pronto per l'89esima adunata nazionale degli alpini ad Asti, Rete Veneta seguirà come sempre in diretta domenica la sfilata. Molti alpini padovani sono già in viaggio verso Asti, tutto è pronto per l'89esima edizione della adunata nazionale delle penne nere che arriveranno da tutta Italia per il tradizionale appuntamento che culminerà con la sfilata. L'evento sarà seguito anche quest'anno da Rete Veneta che domenica mattina a partire dalle 8.30 trasmetterà in diretta le immagini emozionanti della sfilata delle penne nere. Intanto questa sera gli alpini saranno protagonisti di uno speciale focus insieme ai veneti schiacciati dalla crisi, come sempre a partire dalle 21.05 con il direttore Luigi Baciagli e i suoi ospiti. Ad Asti le manifestazioni inizieranno già domani con l'alza bandiera che darà il via ufficialmente all'edizione numero 89, tra giorni per celebrare i 155 anni dell'Unità d'Italia, il secolo della Grande Guerra e i 70 anni della Costituzione della Repubblica italiana. Saranno migliaia di alpini padovani che parteciperanno alla adunata che per questa edizione ha scelto la città piemontese che dopo 21 anni torna ad ospitare gli alpini con le loro tradizioni. L'avete sentito un focus sugli alpini questa sera nella puntata dei veneti schiacciati dalla crisi in vista della adunata di domenica ad Asti. In studio parlereanno insieme alle penne nere Floriano Zambon, Mirko Lorenzo, Fulvio Pettenà, Giuseppe Pan e Don Giorgio Zacker, capellano militare. Ovviamente ci sarà anche Mirella con ospiti, le storie di famiglie e le imprese in gravi difficoltà e la consegna dell'assegno settimanale. il Banco Solidale, il 5 per mille. Vi aspettiamo come sempre in studio con il direttore Luigi Bacialli a partire dalle 21.05. TG Padova invece termina qui. Grazie per averci seguito e buona serata.